Il trucco di magia, a non far cadere l'acqua. Questo è un bicchiere d'acqua, è pieno d'acqua, una carta da dieci cuori e una bacchezza magica. Adesso vi faccio vedere. Prendete la carta da dieci cuori e la appoggiate sul bicchiere d'acqua. Dite la parola magica, abbracadabra, poi mantenete e girate. Poi di nuovo abbracadabra e la carta si incollerà e non cadrà l'acqua. Bravo! Adesso giriamo la bacchetta al stesso orario. Abbracadabra! Ci sarà acqua in? Sì, c'è acqua dentro. C'è acqua dentro. Si muove. Ok, bravo! Ciao! Ciao! Grazie.